Siamo collegati con Diego Bianchi, stiamo parlando dell'agguato di questa mattina che è costato la vita all'ambasciatore Attanasio, al carabiniere di scorta, all'autista del suo convoglio. La situazione è tutt'altro che chiara, lo dicevo prima, ecco qui cosa scrive il sito del Corriere della Sera. Congo ha ucciso l'ambasciatore Luca Attanasio, un carabiniere, tre persone rapite, illeso un italiano. Adesso cerchiamo di andare a fondo di queste ultime novità. Diego, volevamo entrare un po' più nel dettaglio. Prima stavi raccontando che la tua presenza nella stessa zona in cui stamattina è avvenuto l'agguato, hai scoperto quando eri lì che erano tutti quanti a conoscenza del fatto che ti saresti mosso in quella zona. Sì, questo me l'hanno detto ovviamente dallo staff di Medici Senza Frontiere, per dirmi che nessun movimento che non faccia parte dell'equilibrio naturale di quei posti avviene senza che lo si sappia o che venga consentito. Considera che io mi muovevo appunto con i mezzi di Medici Senza Frontiere e in quelle strade che sono appunto simili a quella dove è avvenuto l'agguato oggi era pieno di posti di blocco di milizie armate con fucili, mitra, macete, l'equipaggiamento come dire più vario. Cioè le milizie, venivi fermato dalle milizie? Sì, sì, il mezzo veniva, come dire, vagliato. Veniva guardato, a volte c'erano proprio, mi ricordo, dei camion messi di traverso per fermare, a volte c'erano proprio delle sbarre, tipo dei passaggi a livello. Ma che tu sappia... E si passava, diciamo, il nostro lascia passare, questo lo ricordo e va assolutamente a merito di Medici Senza Frontiere, a testimonianza del lavoro che viene fatto, era la bandiera di Medici Senza Frontiere ben in vista. Sì. Perché, vista quella, diciamo che se non si facevano errori, tipo, ne dico uno per tutti, che ovviamente a Medici guardava personalmente, tipo usare la telecamera, per dirne uno. Certo. Che ovviamente ogni volta che passavo in uno di questi posti abbassavo. si passava perché Medici Senza Frontiere sul posto, e un po' in generale ovunque, ma anche in un posto così, aveva e ha una credibilità tale sia presso la popolazione, sia presso le stesse milizie armate, per cui si sa che è bene farli lavorare. Perché è la stessa cosa che succede con Emergency nei paesi in cui apre, diciamo, ospedali o comunque punti di pronto soccorso, perché, diciamo, si occupano della sanità e non si occupano di altro. Quindi sono come delle zone franche, no? Loro curano tutti. Certo. Ricordo che in alcuni di questi ospedali c'era proprio un reparto dove sono stato, per esempio, nel villaggio di Masisi, appunto nel Narchievo, c'era un reparto dedicato ai feriti d'arma da fuoco, che erano quasi tutti miliziani, ed è stato l'unico reparto dove io non ho fatto riprese, tra l'altro. Certo. Diego, un'ultima parola su Attanasio, perché noi questa sera, oggi abbiamo montato questo speciale molto di corsa, però, insomma, non soltanto per il fatto, l'avvenimento in sé, che ha un, diciamo, un drammatico valore dal punto di vista istituzionale, ma perché Attanasio era un personaggio molto amato, un diplomatico molto amato. Quindi, un'ultima cosa su Attanasio, prima di lasciarci. Guarda, molto brevemente, io non, diciamo, era la prima volta che mi ritrovavo in una residenza di un ambasciatore, non sapevamo neanche bene come comportarci, mi ricordo andammo io e tre ragazzi che lavoravano, italiani, che lavoravano per medici senza frontiere, quindi l'impatto fu un po' così, eravamo un po' imbarazzati, sai la forma, noi poi eravamo, lui era impeccabile nell'abbigliamento, come l'hai visto anche nell'intervista, noi eravamo un po' così, un po' scacciati, però fu un incontro assolutamente facile, piacevolissimo e lui ci teneva poi così nel tono leggero di quella chiacchierata, soprattutto di quella tavola, a farci sentire a casa sua, come diceva anche la giornalista, come diceva anche, scusami, nel collegamento precedente da Kinshasa, la casa degli italiani, lui questa cosa la diceva veramente e ci teneva a sapere da noi se i piatti che stava insegnando a fare allo chef fossero di nostro gradimento, cioè gustati da degli italiani quanto risultassero credibili, quindi era... Però diciamo la verità, per esperienza tua, ma anche mia, quando stai in quei posti l'ambasciata italiana è come andare in un ristorante Michelin a 5 stelle, eh? Assolutamente, sì, sì, certo, diciamo che poi una volta dentro ci sentivamo molto al sicuro, e dopodiché c'era la sicurezza tutto intorno, c'erano i racconti che ci ha fatto Attanasio e anche delle vicende della stessa ambasciata italiana a Kinshasa e diciamo il pericolo del posto era evidente in ogni aspetto, dopodiché si ostentava tranquillità, ecco, anche perché altrimenti in un posto del genere non riusciresti a stare. Certo, Diego, prima di lasciarti ascolta queste due agenzie che mi hanno portato adesso, sono dell'Ansa France Press. Tre persone sono state sequestrate nell'attacco al convoglio della Food World Program, su cui viaggiava l'ambasciatore italiano Luca Attanasio, una Repubblica democratica. Loren De Noto, il ministero dell'interno di Kinshasa, in un comunicato. Una quarta persona che era stata rapita è stata invece ritrovata. E poi, seconda agenzia, il governo congolese accusa i ribelli Hutu del fronte di liberazione del Ruanda dell'attacco di stamattina in cui sono morti l'ambasciatore Attanasio, il carabiniere Iacovacci e il loro autista. Quindi, insomma, è una storia ancora in piena evoluzione, almeno a valutare e a pesare queste notizie che arrivano da lì. La minaccia dei sequestri di persona, tornando a quell'esperienza, era quella della quale venivo avvisato più spesso. Era il vero rischio. Era il vero rischio. Lo stesso, anche Medici Senza Frontiere, nonostante appunto tutto il discorso che ho fatto prima, la credibilità, aveva avuto un'esperienza di questo tipo alcuni mesi prima e avevano sospeso l'attività per un periodo, proprio per far capire quanto poi in realtà il lavoro di Medici Senza Frontiere fosse importante e fosse meglio lasciarli stare. Certo, certo. Diego, io ti ringrazio davvero. Grazie a te. E buon lavoro per propaganda per venerdì. Cercheremo ovviamente inevitabilmente di parlarne, quindi rivedremo delle immagini di quel viaggio sia per rendere appunto onore alla memoria dell'ambasciatore e delle altre due persone. Adesso mi scuso, non ricordo i nomi che sono morti nell'agguato, sia per raccontare comunque il Congo che è un posto bellissimo. Un posto stupendo che sono molto contento di aver avuto l'opportunità di visitare e parzialmente di conoscere. Tra l'altro, drammaticamente il Congo, come tanti altri paesi, è uscito fuori dal radar dell'attenzione e invece è un paese pieno di problemi molto seri dove noi andiamo a pescare, a rubare e ad appropriarci di ricchezze in modo anche tremendo. Ma di questo parliamo. Grazie Diego, buon lavoro. Grazie a te, grazie a voi, buon lavoro. Ciao, ne parliamo.